Ancora una volta Pokémon Millennium ha fatto la storia The Pokémon Millennium è riuscita per la prima volta ad avere uno streaming sanzionato Sponsorizzato da Nintendo Italia e The Pokémon Company Quindi il sabato 23 e domenica 24 marzo voglio vedervi tutti online Nel canale YouTube di Pokémon Millennium per fare la storia tutti insieme Per vedere per la prima volta un campionato solo di italiani Un torneo dove ci sono solo italiani e solo gli italiani più forti Più tutti i top player europei e non che vengono da fuori State pronti a vedere uno dei tornei migliori della storia Ma non è solo questo il mio annuncio ce ne sono altri due Il primo è che è iniziata la stagione diciamo calcistica C'è la serie A dei Pokémon Andate a seguire il Nencio per ogni aggiornamento per quanto riguarda la classifica eccetera Ci sono otto capitani io sono uno di questi Ho Simone Sanvieto nel team Siamo pronti abbiamo fatto il draft e vedrete che questo campionato è pazzesco Ma la terza cosa che devo annunciare è che lunedì 25 marzo alle 14.30 esce il pezzo del gala Esce la canzone La seconda canzone Voglio 40.000 visualizzazioni a quel video State in hype perché lo sto producendo ragazzi è una bomba questo video È una bomba perché mi darò al lavoro del videomaker soprattutto musicale E quindi questa qui è una prova proprio per far vedere le mie abilità a tutti gli altri e tutti gli artisti Quindi lunedì 25 marzo dopo lo streaming ci sarà la bomba delle bombe Stay tuned